Altri due amici, Orazio, buongiorno, Orazio Anzivino, che bello è qua, lui è? Ha mandato dal più bello posto del mondo, anche se Leonardo dice che è con noi. Leonardo, chiariamo, buongiorno intanto. È un bel paese, buongiorno, sicuramente è un bel paese, però io intendevo che per il giovane non c'è avvenire tutto qua. Ah, va bene, va bene. Ho chiarito. Ma ognuno ha il suo contrario, come si dice, quando uno viene assalito, ognuno ha il suo pensiero, è vero. Magari qui non c'è lavoro, non c'è lavoro. Questo è un posto, è un posto che ha il lavoro a Foggia, chi ha il lavoro ad Ariano, chi viene qua e se ne viene a fare la residenza. Chi sta in pensione? Oppure per i pensionati. E ora ti godi la vita. Mentre dietro di te la fontana nuova canta. Aspetta che ora è assente, la fontana nuova.